signori buongiorno e bentornati sul canale del master care io sono il master care il vostro ospite su questo canale ora c'è un rituale secondo cui io devo iniziare questo tipo di video dicendo io questo video non lo volevo fare però dato che a quanto pare è stato espressamente richiesto da alcuni degli utenti chi sono io per dirgli di no proseguite nella visione a vostro rischio e pericolo e devo avvisarvi che questo è un rant il video non l'ho scritto quindi probabilmente comincerò a divagare a caso io mi son fatto una scaletta ma tanto non riesco a seguirla quindi lascerò completamente perdere oggi parliamo di come non potete gestire il tavolo tramite le regole ma dovete gestirlo tramite i giocatori cosa vuol dire questo sento da sempre master che si lamentano di qualche tipo di comportamento da parte del loro tavolo e credono di poter risolvere dei comportamenti che a loro non piacciono influendo sulle regole del gioco che stanno utilizzando facciamo l'esempio per antonomasia il classico giocatore che vuole portare un personaggio troppo forte al limite del non sense prendendo le regole non per come sono scritte ma per come lui la interpreta fondamentalmente il giocatore che sta cercando di barare o anche semplicemente il giocatore che vuole avere il personaggio più forte possibile e non gli interessa assolutamente del fatto che i personaggi e gli altri giocatori siano meno forti che il personaggio è talmente forte da causare poi parliamo in gestione al master o cosa del genere ovviamente questo discorso vale anche al contrario il giocatore che non c'ha voglia di mettersi a scriversi un personaggio quindi mette le statistiche a caso mette talenti a caso prende abilità a caso il giocatore che vuole solo interpretare quindi non si interessa neanche di leggersi le regole o al contrario il giocatore ossessionato alle regole che durante il gioco non spicci che una parola se non per dichiarare le proprie azioni queste sono diciamo le quattro categorie di giocatori che non volete avere al tavolo parantonomasia poi ogni ma sta le proprie idiosincrasie ogni ma sta dei comportamenti che non tollera e dei comportamenti che non gli danno fastidio indipendentemente da cosa sia quello e da fastidio a voi non pensate di poter agire tramite le regole per cambiare questi comportamenti se il giocatore che costruisce il personaggio troppo forte si vedrà cambiate delle regole che limitano la forza del suo personaggio non solo perderà divertimento perché non può fare quello che vuole ma se lui è un giocatore a cui piace montare i personaggi troppo forti semplicemente farà in modo che il suo personaggio sia comunque forte utilizzando un'altra regola a quel punto sarete bloccati in un ciclo di ogni volta che quel giocatore decide di fare qualcosa voi dovete modificare le regole per impedirgli di farla al di là che questo è un comportamento bambinesco perdete anche un sacco di tempo che dovreste occupare in cose più importanti tipo preparare la quest non le regole della quest le regole della quest le preparano gli sviluppatori che sono pagati per farlo non sono fatti i vostri anche in questo caso vale per tutto il resto il giocatore che non vuole interpretare che si vede il master che dice a ma noi adesso leghiamo l'avanzamento di livello all'interpretazione diamo punti esperienza in base all'interpretazione si metterà a interpretare no semplicemente sarà risentito del fatto che ha meno esperienza dagli altri e in un sistema come il d20 potrebbe anche causare dei problemi a voi come master avere personaggi disequilibrati tra i loro il personaggio a cui vuole solo interpretare a cui fate fallire qualsiasi cosa faccia se non cita le regole a memoria non comincerà a studiarsi a regola a memoria semplicemente se ne fregherà e continuerà a fare quello che ha fatto o semplicemente smetterà proprio di parlare e si limiterà a tirare i dadi non lo fa perché questo è il comportamento corretto secondo lui lo fa perché è quello che piace a lui quindi se voi gli impedite di fare quello che gli piace non si metterà a fare qualcos'altro in linea di massima tutti questi comportamenti non faranno altro che fare in modo che la gente se ne vada dal tavolo è una cosa che vale per tutti se io vado a un tavolo di gioco di ruolo se io vado in qualunque posto e quello che si fa lì non mi diverte me ne vado ora molti master sono hanno paura che perdere i giocatori sia sempre qualcosa in negativo in realtà non è vero se c'è qualcuno al gruppo che non è soddisfatto di come va il gruppo che questa persona se ne vada in realtà non è solo un vantaggio per lui ma è un vantaggio anche per il resto del gruppo se c'è una persona che non può proprio consigli conciliarci con quello che piace agli altri quella persona fa benissimo andare e tutti gli altri fanno benissimo a farla andare via che arrivato a un certo punto che sia che lo considerate un mero divertimento sia che considerate una forma d'arte narrativa il gioco di ruolo comunque anche in una forma d'arte la visione artistica di chi prende parte deve essere coerente se io organizzo un gruppo metal e il mio bassista vuole suonare la polca semplicemente non possiamo suonare assieme e allo stesso modo se io mi diverto ad andare al cinema ma i miei amici vogliono andare a ballare semplicemente non usciremo assieme questo non credo abbia bisogno di ulteriori spiegazioni in più anche nel caso il giocatore non voglia allontanarsi dal tavolo probabilmente farete bene voi come master a dirgli di allontanarsi dal tavolo se capite che non c'è la possibilità di mediazione questo è quello che si intende con gestire i giocatori e non le regole ogni volta che voi vedete un problema al tavolo qualunque sia il problema al tavolo non cercate di risolverlo andando a modificare le regole del gioco non servirà mai andate a risolverlo andando a modificare il party parlate ai giocatori chiedete ai giocatori perché hanno il comportamento che hanno e se i giocatori vi rispondono che il comportamento che tengono è perché quello che a loro diverte a quel punto è meglio che separata il gruppo e che fate in modo che quei giocatori vadano a giocare un'altra parte se avete abbastanza giocatori potreste anche dividere il gruppo in due organizzare due queste diverse magari una secondo uno stile una secondo un'altra io ho masterato per anni in associazione quindi eravamo 5 6 master e una ventina di giocatori quindi il problema non sei mai mai posto se voi siete un gruppo di 4 5 amici che masterata a casa l'uno dell'altro effettivamente questo potrebbe portare a problemi però non fate l'errore di pensare che ama non posso mandare via il mio amico perché sennò ci sono dei risentimenti perché tanto o gli date ragione o gli date torto o lo bloccate tramite le regole o non lo fate il fatto che la gente al tavolo non si diverta porterà comunque dei risentimenti se uno dei giocatori al tavolo tiene un comportamento non consono la possibilità di chiudere le cose senza che qualcuno s'arrabbi è comunque già saltata se provate a parlargli e spiegare chiaramente a quel punto avrete la possibilità di parlando da adulti di chiarire le cose e spiegare che guarda il comportamento che tieni non può essere applicato alla mia quest il comportamento che tieni personalmente mi infastidisce e allora può darsi che non litigherete però litigherete non voglio far durare la cosa troppo avevo detto già che questo sarebbe stato un rante quindi vediamo di chiudere non fate mai assolutamente l'errore di andare a toccare la quest o le regole della quest per cercare di impedire qualcosa ai giocatori in realtà non fate mai l'errore di cercare di controllare i vostri giocatori gli unici comportamenti corretti sono o adattarsi cioè fare quello che la maggioranza del gruppo ritiene meglio o allontanare dal party e per inciso questo vale anche per voi come master se voi come master vi trovate da gestire un gruppo il cui comportamento di maggioranza è qualcosa che a voi non piace rifiutate il gruppo e fate masterare qualcun altro se voi vi sarete costretti a scrivere una quest secondo dei canoni che a voi non piacciono quella quest comunque sarà brutta perché vi annoierà farla non vi piacerà farla probabilmente vi infastidirete e se voi cominciate ad arrabbiarvi è molto probabile che sfogherete questa rabbia anche solo inconscia sul resto del tavolo quando si gioca bisogna essere uno spirito di collaborazione e soprattutto è uno spirito di serenità senza quello non si può andare avanti diciamo che la chiudiamo qui spero che il messaggio sia passato ogni volta che sentite qualcuno che dice ah ma io ho tolto questa cosa perché sennò il mio giocatore sgrava ah ma io ho fatto questo perché sennò il mio giocatore non si legge neanche le regole spero vi sentiate in testa la vocina del master kai che vi dice quanto è stupido questo tipo di comportamento come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivete nei commenti qui sotto sono molto interessato a sentire la vostra in queste cose perché queste sono proprio masteraggio one one sono le cose che non sono scritte sui manuali ma sono indispensabili per il lavoro del master se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale io sono il master k e noi ci vediamo la prossima settimana con un video un attimo più organizzato di questo